Lorenzo Cagli dopo il secondo giro all'Open, Lollo, meno 7 come il dottor Molinari, ti va bene? Sì, ho fatto due bei giri, ho espresso un gran gioco in tutti e due giri e potevo essere anche qualche colpetto in meno, sinceramente. Boghi alla 17? Ho sbagliato un patto da molto vicino. E poi vabbè, l'ordine 18 quindi di carattere ci sta, no? Sì, alla 18 ho tirato un gran drive, c'avevo un po' di rabbia in corpo, ho tirato un gran drive e ho tirato a ferroquattro di secondo, per cui con il drive è diventata un po' più facile la buca. Dicevano che non stavi bene la mattina, cosa hai avuto di preciso? C'ho avuto ieri mattina, pensavo sinceramente di non giocare neanche, mi sono svegliato a non fortissimo male, spalla, trapezio, muscolare, non riuscivo a muovermi. Poi ho fatto dei trattamenti con Massimo Messina e sinceramente mi ha risolto proprio, cioè non ancora completamente perché evidentemente il danno era piuttosto grave, però riesco a giocare perfettamente senza grandi dolori, diciamo. Ma sai perché ti sono venuti? No, penso di aver dormito male durante la notte. Comunque se fai meno 7 e non stai bene, domani mattina ti incontro, ti spacco una gamba, magari puoi fare ancora meno. Ora non esageriamo, cerchiamo di stare integri fisicamente, di imbuccare qualche patto in più. A domani. Grazie.